e ciao a tutti qui da abel fc è ufficiale morten frendup è un nuovo calciatore del genoa per 3.5 milioni di euro a titolo definitivo il centrocampista vestirà la maglia numero 32 ed è subito a disposizione del nuovo club il giovane calciatore arriva dal brondipi squadra di serie a danese ma chi è frendup può far bene in serie a scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo lascia il tuo commento qui sotto su quello che pensi di questo ragazzo qui e vai a vedere dal link descrizione fantacalcio pro morten frendup è nato a holbeck in danimarca il 7 aprile del 2001 è un centrale di centrocampo del genoa e della nazionale danese cresce calcisticamente nelle giovanili delle brondipi un centrocampista centrale che può giocare a sinistra oppure in mediana davanti alla difesa a buoni piedi ed è bravo nell'anticipare gli avversari chiudendo gli spazi molto conosciuto in patria fa parte delle nazionali minori danesi dal 2017 iniziando il suo percorso all'under 16 con tante partite poi in under 17 e under 19 ora convocato già cinque volte con l'under 21 esordisce in prima squadra dopo la trafita delle giovanili nel febbraio del 2018 disputando l'incontro di super league vinto 3 a 1 contro il link e alla fine di quella stagione 2018 2019 iniziò a giocare sempre diventando titolare fisso fino a quest'ultima stagione con il club danese con il brondipi sono state ben 93 partite con 3 gol e 6 assist tra campionato danese coppa danese e europa league vincendo la coppa di danimarca molto giovane facendo poche partite ma soprattutto lo scudetto danese da protagonista assoluto non è un centrocampista molto bravo in fase offensiva non ha piedi molto precisi molto buoni ma la sua caratteristica migliore è il recupero del pallone un calciatore abile soprattutto in fase di non possesso legge bene i tempi di gioco e i movimenti degli avversari capace di recuperare i palloni con una grinta da vendere non è molto forte fisicamente ma si fa sentire la sua presenza uno che non si ferma mai sempre pronto ad aiutare i compagni e chiudere gli spazi sarà una bella sfida per lui la nostra serie a ha una buona esperienza internazionale per l'età ma per salvare il genoa e rendere bene in italia dovrà fare un bel salto di qualità un calciatore dal profilo basso ma con carattere da vendere un mastino che non si ferma mai e che aprirà molti spazi secondo me per amiri e rovella in mezzo al campo e tu che ne pensi di friend drop può far bene in serie a lascia un commento qui sotto scriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo e vai a vedere nel link descrizione fantacalcio però ci vediamo presto qui da abel a fc ciao 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 ciao